Mandiamo tutto il video di quanto si può mandare. Non lo so, lo carichi direttamente. Perché questo sanno fare? I piattini, i piattini qua, i piattini qua, i piattini ovunque. Queste fanno scattare la gabbia. Sì, prendiamo una delle due buonanotte. Prendo questa, tiro. E se lei vede non entra più? Non posso. Nen ogni caso, tutti e due non entrerebbero mai. Tiriamo e prendiamone una. Ma è mezza fuori, vedi? È col culo mezzo fuori. Ah, se è mezza fuori, no. Almeno una deve funzionare. Vieni, tesoro, vieni. No, gli piace di più quello dentro la gabbia. Ok, lei la potresti prendere. Alla coda fuori. Scusa. Alla coda fuori, Dani. Perché lei la fa spaventare. Ok, vai. Sì, è dentro. Ok.